Siamo con Gianzini e Malfredi, due elementi storici della scuola Teresipacini. Allora, come sta andando il campionato? Discolettamente bene. Devo dire che nonostante l'età continui a diventare sempre maggiore, ci stiamo divertendo, siamo secondi a un punto e stiamo giocando anche sufficientemente bene. Obiettivo della stagione? Visto che siete secondi al giro di Bohr, quasi, anzi siamo oltre al giro di Bohr. Come sempre i play-off è l'obiettivo principale e poi, visto che siamo soltanto a un punto dalla testa, speriamo di arrivarci prima possibile, poi si vedrà strada facendo. Voi siete tantissimi anni, siete con Sporta, il livello tecnico si è alzato, possiamo dire qualche cosa? Oppure è abbastanza costante? Direi che è costante, perché negli ultimi 3-4 anni il livello è veramente molto buono e anche quest'anno ci sono almeno 6 o 7 squadre ad un ottimo livello. Voi fate la Serie A quest'anno, hai già visto qualche partita anche in Serie B, hai notato le differenze rispetto alla Serie A oppure ritieni che sia abbastanza omogeneo? No, non molte differenze, perché poi molte squadre che arrivano dalla Serie B ai play-off si comportano sempre bene, quindi penso che sarà così anche quest'anno. Poi i nomi bene o male sono sempre gli stessi e sarà difficile. Ok, in Serie A possiamo dire quali sicuro non te saranno le squadre che arrivano ai play-off della massima Serie A? Oltre a voi? Noi speriamo e credo che sia comunque difficile, perché è sufficiente perdere un paio di scontri diretti e rischi già di essere fuori dai play-off, quindi se veramente incerto, anche se guardando la classifica sembrerebbe il contrario. A livello di fair play sui campi, come stanno le cose secondo te? Ma quest'anno molto bene secondo me, ma in generale penso che non ci possiamo lamentare, le squadre sono tutte molto tranquille, cioè le partite sono sempre vissute con sportività e lealtà. Bene, ringraziamo i due elementi storici dei 3S Pacini e Bocca Lupo. Grazie, grazie. Siamo con Salinas dalla squadra degli Orpas, allora come sarà il campionato? Ma ci stiamo divertendo, diciamo che la classifica è quella che è, però è il primo anno che partecipiamo come squadra 7, quindi ci stiamo un po' abituando anche a questo modo di giocare. Non abbiamo mai giocato così, però il divertimento è tanto, quindi va bene anche così. Passiamo con Bruno, Bruno cosa ci dici di questo campionato? Il livello tecnico com'è? Il livello è alto, il campionato è molto difficile, siamo in fondo alla classifica, cercheremo di recuperare nei giorni di ritorno. Tra l'altro siete in Serie A, dove il livello è decisamente più alto rispetto alla B. Non ci aspettavamo un livello così alto. Voi avete già avuto esperienza di campionati? No, è il primo anno che giochiamo, però cresceremo, nel giro nel ritorno siamo sicuri di crescere. A livello di fair play sui campi invece, che è un tasso molto importante per sport, non cerchiamo sempre di avere squadre tranquille con noi? No, noi personalmente ci siamo trovati sempre molto bene, molto rispetto, molta tranquillità, chiaro ogni tanto un po' di agonismo, ma sempre nei limiti giusti. Ok, bene, ringraziamo per questa breve intervista e in bocca al lupo. Grazie.